Cosa non vi convince del piano di governo del territorio al quale sta lavorando l'amministrazione comunale di Castione e la Presolana? Sono tante le cose che potrebbero essere commentate sul piano di governo del territorio di Castione. In particolare oggi ci concentriamo sull'assenza di una progettazione urbanistica e strutturale per tutti gli sport locali. In particolare oggi l'attenzione è rivolta verso la Costituzione non di uno ma di due campi da golf sul territorio di Castione e la Presolana. Uno sappiamo che presso il Montepora si estenderà quasi completamente sul territorio di Rogno, mentre un altro si estenderà in Valle di Tede andando di fatto ad occupare una zona che non era ancora mai stata destinata a quel tipo di struttura. O meglio, era stata destinata in passato, oggi diventa esecutiva con una priorità che lascia un po' stare fatti. Se consideriamo poi la presenza sia nella Commissione che nella stessa amministrazione di golfisti che di fatto hanno dato veramente impulso a questo tipo di struttura nel piano di governo del territorio. Ecco, soldoni si può dire che si potevano ricordare anche gli altri sport praticati a Castione, tra cui il motocross, l'enduro, il calcio stesso e ovviamente gli sport invernali. Questo sicuramente non ci convince e non mi convince personalmente, tornando poi al discorso dei commissari che si sono imposti sull'amministrazione di Castione. E riguardo l'Imo? L'Imo è un'altra questione che avremmo voluto affrontare diversamente. Noi sappiamo che Castione del Presolano è uno dei paesi più ricchi, se non il più ricco in proporzione alla popolazione di tutta la Valle Seriana. Eppure i soldi sembrano non bastare mai. Sappiamo che il gettito totale sarà di circa 4 milioni e mezzo di euro, quindi una grande cifra di cui più della metà resterà al Comunicastione. Eppure, come ci è stato comunicato in Consiglio Comunale, sembrano non bastare questi soldi. Ora noi vorremmo chiedere al Sindaco come mai non bastano queste risorse e come mai si tassa sempre la popolazione e non si indica mai dove andranno a finire quei soldi e per quali servizi vengono chiesti. Questa è una questione politica di trasparenza che il Sindaco dovrebbe affrontare. Poi sicuramente verranno adotte chissà quali motivazioni. Noi sappiamo solo che la tassazione viene imposta senza una destinazione delle risorse. Noi sappiamo solo che la tassazione viene imposta senza una destinazione delle risorse. Comunicastione